Buongiorno a tutti, io mi chiamo Ferruccio Ponzano e sono il vicepresidente del corso di laurea magistrale in Economia, Management e Istituzioni. È un corso di laurea che si tiene presso la sede di Alessandra dell'Università del Piemonte Orientale. Questo corso ha la peculiarità di mettere assieme sia l'economia che il management. I tre curricula principali sono quello in management, quello in economia e quello in law and economics, quest'ultimo interamente in inglese. Ci sono diversi curricula, ma in tutti questi curricula si possono studiare batteri quali l'economia comportamentale, l'economia pubblica, il diritto, la storia economica e quindi vi è comunque un elevato livello di interdisciplinarietà. Un'altra caratteristica importante nel nostro corso di laurea è l'internazionalizzazione. Gli studenti possono passare un semestre o un anno all'estero in una nostra università consorziata. Questo dà la possibilità di ottenere la cosiddetta laurea binazionale, cioè sulla base dell'università che potete scegliere voi otterrete due lauree. Un'altra importante opportunità che vi dà il nostro corso di laurea è quella di partecipare alla cosiddetta internship presso l'Unione Europea. Cosa significa? Significa che voi per alcuni mesi andrete a Bruxelles e lavorerete a stretto contatto con le istituzioni europee. Gli sbocchi professionali di questo corso sono molto ampi. Questo corso vi permetterà anche di lavorare in istituzioni italiane pubbliche, così come in imprese italiane ed estere. Il nostro corso è incardinato presso il Dipartimento di Giurisprudenza, Scienze Politiche, Economiche e Sociali. Vi consiglio di andare sul sito internet del Dipartimento per avere maggiore delucidazione. Grazie per la visione!